A meno di un mese dall'iniziativa lanciata dalla CGL sul referendum abrogativo sul lavoro in Italia sono state raccolte 200.000 firme, quasi la metà necessaria, e l'Abruzzo e il Molise stanno dando il loro contributo in linea con le altre regioni. 3.602 le firme raccolte in testa alla provincia di Chieti che conta 924 adesioni, a seguire l'Aquila che è un 856, Pescara con 716, Teramo con 301 e il Molise con 805 firme. L'Abruzzo maglia nera sulla sicurezza se si contano i lavoratori occupati con gli incidenti mortali 36 nel 2023. Il referendum sulla sicurezza sul lavoro prevede che venga abrogata quella norma che limita la responsabilità del committente negli appalti in caso di incidente sul lavoro. Quindi ripristinando la precedente norma, perché fino al 2003 era così, il committente è anche responsabile della sicurezza di ciò che avviene in virtù di un appalto che lui ha concesso, appalti o subappalti. Altri due quesiti referendari sostanzialmente riguardano la stabilità lavorativa, cioè il quesito numero 3 che parla dell'abrogazione delle norme che hanno liberalizzato l'utilizzo del lavoro a termine e il quesito 2, lavoro dignitoso, l'abrogazione delle norme che facilitano i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese. Sì, anche qui è stata introdotta tra l'altro la norma proprio dal governo in corso, per cui vi è la causalità sostanzialmente per l'attivazione di un contratto a termine. Noi invece diciamo che anche qui, come accadeva precedentemente, si può attivare un contratto a termine, ma se ci sono determinate motivazioni, quali possono essere picchi di stagionalità, oppure sostituzione di personale assente in maternità, oppure picchi della domanda. Ecco, il lavoro a termine non deve essere la regola, la regola deve essere il lavoro a tempo indeterminato. Il lavoro va tutelato anche in caso di licenziamenti illegittimi? Reintegra nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo una norma di dignità e di salvaguardia del lavoratore, quindi ne chiediamo il ripristino, ma chiediamo anche che l'indennizzo che oggi viene dato in caso di licenziamento illegittimo ai lavoratori non venga tolto quel tetto delle sei mensilità.